Buongiorno, sono il dottor Franco Lauro, sono specialista in chirurgia plastica e lavoro qui a Bologna presso una struttura che è Villa Alba, che è una casa di cura. Mi sono laureato a Bologna nel 1989 e specializzato a Padua in chirurgia plastica nel 1994. Vengo da una scuola paterna di chirurgia plastica in cui mio padre è stato uno dei primi chirurghi estetici in Italia, ha cominciato nel 1967 e ho lavorato con lui per più di 15 anni. Ho frequentato vari chirurghi a livello internazionale, abbiamo fatto degli stage sia a Parigi dal dottor Fevre, sia in Spagna, a Madrid dal dottor Inder, dal dottor Della Plaza e anche negli Stati Uniti dal dottor Ramirez a Baltimore e dal dottor Aston a New York. Dal punto di vista professionale gli interventi che io eseguo nella gran parte dei casi sono quasi tutti di chirurgia estetica. Nella chirurgia estetica ha spazio su quasi tutta la chirurgia con delle preferenze, tutti i chirurghi hanno delle preferenze personali che possono essere la chirurgia della mammella e la chirurgia del ringiovanimento facciale, dalle faroplastiche ai lifting temporali, ai lifting in generale che sono magari tecniche che non tutti i chirurghi eseguono frequentemente. Il mio approccio con il paziente che viene da me in visita è un approccio tipo analitico, cioè il paziente mi propone e mi descrive un problema. Fortunatamente ho un buon bagaglio tecnico e un'esperienza piuttosto importante di oltre 25 anni di chirurgia che mi permette di offrire al paziente generalmente tante varie comunque soluzioni a questo tipo di problema. Abbiamo un'equip che è molto disponibile, quindi sempre pronta alla richiesta, alla necessità, ai dubbi perché in questo tipo di chirurgia la componente psicologica è molto importante per cui noi offriamo un valido aiuto di grande presenza per il paziente che ha questo tipo di interventi.